L'intervista era di Alessio Falconio, vi abbiamo detto che Di Pietro chiede il ritorno alla legge reale o una nuova legge reale. Marco Perduca, senatore radicale, dice Il nostro compagno liberale Di Pietro, l'Italia dei Valori, è membro del Partito Liberale Europeo e ne ospiterà il congresso a Palermo a novembre. Pilastro dell'alleanza che verrà del nuovo Livo invoca oggi il ritorno della legge reale per gestire la piazza in futuro. Che ne pensano i compagni del PD, i socialisti, i verdi, sinistra e libertà, che con lui, ma mi pare senza i radicali si vuole costruire l'alleanza di governo, che ne pensano anche all'interno dell'Italia dei Valori, quelli che spesso cavalcano la piazza Gigiotondina o no che sia. Bersani ha fatto sapere che quei radicali eventualmente si discuterà quando il nuovo Livo sarà fatto. Speriamo che l'apporto irrinunciabile della piattaforma dell'alleato Di Pietrista possa consentire ancora il dibattito pubblico. La legge reale era piuttosto severa con la libertà di opinione. Questo dice Perduca a proposito delle dichiarazioni di Di Pietro.